Sono passati ormai 17 anni da quando per la prima volta Luigi, l'Eterno Secondo, assumeva il ruolo da protagonista in un platform, deliziando il mondo videoludico con Luigi's Mansion. Un titolo che nel suo piccolo segnò una rivoluzione in casa Nintendo. Un platform imperfetto, grezzo e poco rifinito. La volontà di renderlo disponibile nella line-up di lancio del Gamecube in Giappone portò Nintendo a chiudere in fretta e furia un progetto che arrivò sugli scaffali completo a metà. La sua natura di demo tecnica e delle potenzialità della nuova console era mal celata da un'esperienza ludica che a stento riusciva a raggiungere le quattro ore complessive. Eppure critica e pubblico rimasero stregati dall'avventura di Luigi, grazie a una direzione artistica curata nei minimi dettagli che finalmente conferiva un'identità caratteriale all'idraulico verde e a delle intuizioni di gameplay in grado di donare nuova vita al genere del platform 3D. Insomma, le potenzialità c'erano tutte, andavano solo sviluppate con degli eventuali seguiti. Purtroppo la serie non è più stata messa in primo piano da Nintendo, che per svariati anni l'ha praticamente abbandonata. Quasi 20 anni dopo dall'esordio su Gamecube, a seguito di un secondo episodio su 3DS che ha convinto solo a metà e a un porting remake del primo capitolo fuori tempo massimo, Luigi Smashing arriva su Nintendo Switch con l'arduo compito di rivitalizzare una serie pressoché defunta. Riuscirà questo terzo capitolo a raccogliere questa pesante eredità? Io sono il Poro Michele e mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi altre recensioni e approfondimenti su Nintendo, Switch e il mondo videoludico. Mario is Missing, oltre a essere il titolo di un bizzarro videogioco educativo uscito nel 1993, è se vogliamo l'incipit preciso, nonché riassunto completo, della trama dell'intera saga di Luigi's Mansion. Anche in questo terzo episodio la storia è una semplice cornice, un pretesto per mettere in mano a Luigi un aspirapolvere e mandarlo a caccia di fantasmi. E a proposito di cornici, di nuovo Luigi dovrà liberare i suoi cari dai dipinti in cui sono stati imprigionati dal malvagio Rebu con l'aiuto della misteriosa Malberta Chrysanthemi. La proprietaria dell'hotel ha infatti attratto con l'inganno tutta la cricca di Mario & Company, anche il comprimario per eccellenza, il Dottor Strambik, che fungerà per la terza volta da guida e supporto per il protagonista. Questa volta, continuando con la linea citazionistica, donando a Luigi un comodissimo Virtual Boo. Rimane integro il cuore del gameplay e la base dell'esperienza. Ci troviamo di fronte ad un platform incentrato sulla minuziosa esplorazione di ogni singola stanza e sull'interazione creativa con tutti gli oggetti presenti in esse. Il device principale di Luigi è sempre lo stesso, il Poltergast, in versione G00, GU, che tramite le sue due funzioni base di aspirazione e ispirazione, funge sia da strumento interattivo che da arma a chiappa fantasmi. Ci sono nuove abilità a disposizione del protagonista, e sebbene le fasi di combattimento non evolvano mai in modo radicale, complice anche una scarsa varietà di nemici, tutte le nuove funzioni dell'aspirapolvere accrescono notevolmente la varietà dei puzzle ambientali. Tra tutte, figura l'aggiunta di gommi Luigi, probabilmente la meccanica principale che fa da sfondo alla costruzione dell'intero titolo. Questo doppio gelatinoso di Luigi è richiamabile tramite la pressione della levetta destra, e assumerne il controllo costringe l'idraulico ad immobilizzarsi. Il giocatore può decidere di switchare a piacimento tra i due, e la consistenza fisica di gommi Luigi gli consente di compiere azioni altrimenti impossibili da eseguire con la versione originale, compiti come infilarsi dentro a tubi, passare attraverso le grate, o risultare immune al danno da spuntoni. Questa è forse la novità più importante sviluppata in Luigi's Mansion 3, in grado di mettere il giocatore di fronte a una varietà di situazioni non indifferente, grazie soprattutto alla possibilità di combinare le azioni tra i due personaggi. Inoltre è possibile, in qualsiasi momento, far assumere il controllo della gelatina verde ad un secondo giocatore, portando avanti la campagna principale in co-op locale. Avendo giocato per la maggior parte in multiplayer, posso dire con certezza che il titolo assume una nuova dimensione, e molti dei suoi puzzle sembrano sposarsi perfettamente con l'approccio multigiocatore. Solo in sporadici casi, durante alcune boss fight principalmente, abbiamo percepito la sensazione che la presenza del secondo giocatore abbassasse drasticamente il livello di sfida, diventando quasi un cheat per vincere a mani basse. A differenza di Darkmoon, non c'è un vero senso di progressione, e tutte le meccaniche di gameplay vengono rese disponibili dopo le prime ore di gioco. Non ci si annoia facilmente però con Luigi's Mansion 3 e per tutta la durata della storia, finita in circa 13 ore di gioco, non poche secondo gli standard attuali, non ci sono mai stati momenti morti o sezioni di backtracking frustranti. In alcuni passaggi vi ritroverete ad essere costretti a visitare nuovamente dei piani già completati, ma questi saranno presentati sotto una nuova luce, o prospettiva se vogliamo. Insomma, il tallone di Achille di Darkmoon, la sua struttura a missioni che costringeva il giocatore a visitare più volte gli stessi ambienti per completare poche tipologie di obiettivi riproposte in tutte le aree, viene ora sostituita da un impianto di gioco più fluido e di ampio respiro. L'obiettivo principale è quello di esplorare tutti i 17 piani dell'hotel, comunicanti tra di loro tramite un ascensore principale. Il problema è che sono spariti i pulsanti della selezione piani ed ognuno di essi è in mano a un boss di fine livello. La struttura quindi è molto semplice, si esplora un piano dell'hotel, si arriva al boss della sezione e una volta sconfitto si ottiene la chiave, ovvero il pulsante dell'ascensore, per accedere al piano successivo e progredire così con l'esplorazione. L'ordine di avanzamento è prefissato, ma nulla vieta al giocatore di tornare sui suoi passi e di esplorare liberamente livelli già completati. Dimenticatevi tutti i passaggi obbligatori di Darkmoon, con i continui rientri alla base e quella miriade di cutscene, tutte identiche, che spezzavano bruscamente il ritmo d'azione. Sorprende e diverte fino alla fine l'incredibile varietà di situazioni che i ragazzi di Next Level Games sono riusciti a ricreare partendo da un'ossatura così semplice. L'hotel è un mero pretesto e ogni piano è quasi un mondo a sé stante. Tra studi cinematografici, deserti, giardini botanici e navi pirata, ogni livello ha una sua precisa identità, un tema su cui ruota attorno sia il design che il gameplay, proponendo così un contesto dinamico che stimola continuamente il giocatore all'esplorazione. Luigi's Mansion è un parco giochi, pensato in modo molto intelligente e gli autori hanno anche saputo creare un contenitore coerente che raccolga tutte le diverse attrazioni senza mai calcare troppo la mano. Si riesce a passare da una sala concerti ad una palestra senza che venga rotta l'immedesimazione, grazie a un art design sublime. E non mi riferisco solo al piacevole motore grafico, in grado di regalare un ottimo sistema di illuminazione nonostante le ovvie limitazioni tecniche della console, ma anche all'azzeccatissima colonna sonora, all'incredibile coerenza stilistica che accompagna tutte le aree di gioco e alla perfetta caratterizzazione di Luigi e dei suoi comprimari. Questo terzo capitolo ci entra in pieno lo spirito della serie e ci regala il Luigi più Luigi di sempre, fifone, goffo, dalle movenze buffe e la voce tremolante, in grado di entrare persino in competizione con il suo doppio gelatinoso. Idem per le boss fight, non solo graziati ad approcci e pattern per niente scontati, anche se non sempre riuscitissimi, ma in grado di farci divertire e affezionare anche ai cattivi di turno, tramite l'utilizzo di poche cutscene in game. Divertimento è quindi la parola chiave, credetemi, dall'inizio alla fine Luigi's Mansion 3 è disseminato di piccoli dettagli che denotano una cura maniacale e la voglia di divertire il giocatore premiando la sua attenzione. Un esempio stupido, ma che da subito mi ha rapito. A inizio gioco, quando l'atmosfera diventa improvvisamente cupa e Luigi inizia a temere per il peggio, l'idraulico baffuto va in cerca del suo ben più famoso fratello. Entrando in camera sua cosa troviamo? Una stanza vuota, disordinatissima e piena di cartoni di pizza. Ho riso e non poco, e questo è stato solo il primo di tanti momenti simili. Immaginatevi insomma Luigi's Mansion 3 come l'anti Super Mario Odyssey, ad aree totalmente sconnesse tra di loro, che spaziano dal vasto al gigantesco, il titolo di Next Level Games punta agli spazi chiusi, più ragionati e raccolti. L'obiettivo non è la padronanza dello spazio tramite salti e piroette, ma la reattività ambientale agli stimoli del giocatore. Non c'è nessun open world, né il free roaming tanto in voga oggi, ma piccole stanze a telecamere fisse pensate per direzionare ed ingannare lo sguardo di chi gioca. I collezionabili quindi sono presenti anche in Luigi's Mansion 3, ma assumono tutt'altro valore rispetto all'ultima fatica di Mario. Se appunto in Odyssey spesso si aveva la sensazione che monete viola e lune avessero semplicemente la funzione di saturare livelli così vasti da risultare altrimenti vuoti, GM e Buu hanno tutti un loro posizionamento preciso, giustificato dagli stessi ambienti e dai puzzle che li celano. Un passo in avanti significativo rispetto ad Odyssey, e questo non può essere che un grandissimo complimento. Se di difetti dobbiamo parlare, purtroppo Luigi's Mansion 3 non riesce a creare una sfida che vada al di là della campagna principale. Quel mancato senso di progressione di cui ho accennato prima si ripercuote nell'assenza di un vero stimolo che possa accompagnare anche nel postgame. Ad una timida lista di achievement, nascosta malamente nei sottomenù del laboratorio, si contrappone un negozio privo di qualsiasi tipo di abilità o potenziamento e ben presto ci renderemo conto che l'unica utilità della raccolta denaro è quella del ranking a fine partita. Magari i perfezionisti potranno vivere la valutazione come uno stimolo a perfezionare i propri risultati con successive run, ma per la maggior parte dei giocatori rimarrà ben poco da fare una volta sconfitto il boss finale. Anche il comparto multiplayer si articola in modo più complesso del previsto, ma non riesce a convincere fino in fondo. Esclusa la possibilità di affrontare la campagna in due, forse uno degli aspetti più interessanti in assoluto, i giochi paranormali e la torre del caos sono dei simpatici diversivi su cui non è stata riposta la stessa cura dell'avventura principale. Torre del caos in particolare risente di tutte le criticità dell'esperienza online su Nintendo Switch, unite a delle scelte di gameplay che minano la godibilità delle partite. Sono state sicuramente gettate delle solide basi per il multiplayer, sia in locale che online, ma alla portata principale rimane comunque la campagna in giocatore singolo. Luigi's Mansion 3 è un successo sotto quasi tutti i punti di vista. Ci sono ancora delle imperfezioni da limare, ma questa nuova declinazione dell'avventura horror di Luigi è quanto di meglio potesse desiderare un fan della serie. Rimane fedele alle sue origini senza risultare ancora talpassato, proponendo un sapiente mix tra familiarità e innovazione, ricetta che dovrebbe essere alla base di ogni sequel che si rispetti. Chi si approccia alla serie per la prima volta troverà un platform divertente, pieno di situazioni stimolanti e in grado per questo di appassionare giocatori di tutte le età.